Grazie dunque al candidato calvanese. Torniamo un attimo velocemente alla questione aeroportuale, brevemente, perché i vertici della Ryanair sono andati in questi due giorni a Marzala e a Trapani, a Birgi e a Catania a presentare la Summer. Addirittura Catania mi permette che banti qualcosa come cento e passa rotte, ma ci vuole una faccia di bronzo e anche alle amministrazioni a dire, ma come cazzarola fate ad avere 183 destinazioni e non pensare a Comiso? Voi che siete i proprietari di Comiso, è come la famosa canzone Profumi e Balocchi, mamma, tu pensi ai profumi per te e non pensi alla tua piccolina che sta morendo. Mi pare una cosa chiara, ricordatevelo questo, ricordatelo, perché è importante, non si può permettere a qualcuno di giocare con un preciso patrimonio di questa provincia per la quale io personalmente insieme a tanti altri siamo battuti come pazzi per farlo e ce l'hanno fregato. Dai, non è possibile. L'altra cosa è questa che riguarda l'UNESCO. Allora, oggi è la giornata dedicata proprio a questi patrimoni dell'umanità. Beh, insomma, si poteva fare qualcosa, insomma, questo è un richiamo di territorio del dottore Schembari che ha detto, ma come, Ragusa, 18 monumenti, centro storico, UNESCO non ha neanche fatto una manifestazione culturale per quanto riguarda l'UNESCO e questo è un po' quello che era stato detto prima. Manca questa strategia culturale, nonostante la voglia che il sindaco voleva profondere con i suoi assessori, però, insomma, manca davvero qualcosa che riguarda questo nostro particolare, questa nostra capacità. Tra l'altro stanno ricominciando a fare le puntate di Montalbano. Ragazzi, sono passati il 28, era il 98, sono 25 anni, eppure fanno sempre audience, eppure piacciono sempre perché i posti sono quelli, sono straordinari, bellissimi, eppure ce lo scordiamo. Chissà per il futuro se il sindaco nuovo o il sindaco riconfermato si ricorderà un po' di più di tutto quello che abbiamo. Parliamo un attimo di sanità. Ci hanno mandato una foto che riguarda un sito all'interno dell'ASP. Ecco, sapete che cosa è? Questo ce l'ha segnalato un amico, un certo Raffaele, ci ha mandato questa foto. Che cosa è? Praticamente se uno si va a collegare nel sito dell'ASP e va a vedere la questione degli ospedali, può capire che all'ospedale di Ragusa, per esempio, in questo momento, in attesa, con codici bianchi non c'è nessuno. Però ci sono 5 col verde, 3 col giallo e 0 con il rosso. Poi la visita, ce n'è uno, codice rosso, che sta per essere visitato, 7 col codice giallo. Quindi allora se uno vede che c'è moltissima confusione, porca miseria, deve capire che è meglio cambiare, forse è meglio andare a Modica, dove ce ne sono 0, 3, 0, 0. Questo può servire se uno parte da un posto e dice guarda, andiamo a Modica piuttosto che a Ragusa. A Ragusa c'è un casino, cerchiamo di andare a Modica, dove ci sono meno persone nel pronto soccorso. Siccome è aggiornato in tempo reale, può essere una cosa interessante. A proposito di sanità, oggi c'è stata una conferenza stampa alla CGL per parlare proprio dei contatti di lavoro, dei rapporti con la sanità. Abbiamo creato una serie di interviste messe insieme durante circa 7 minuti. Sentiamole.